10 cose che forse non sai sulla monogamia la monogamia la monogamia è un modello di relazione in cui due persone sono legate da un impegno reciproco di amore fedeltà e supporto è la forma di relazione più comune nelle società occidentali ma è anche oggetto di un crescente dibattito Sigmund Bauman sociologo polacco ha definito l'epoca attuale come l'epoca dell'amore liquido in cui i legami interpersonali sono sempre più fragili e mutevoli in questo contesto la monogamia può sembrare una forma di relazione obsoleta e irrealistica la scienza e la statistica hanno cercato di rispondere a questa domanda per anni ma le risposte non sono sempre univoche eccone 10 numero 1 le specie monogame nel loro libro il mito della monogamia David P. Barash e Judith Eve Lipton sostengono che l'instabilità dei rapporti umani è una caratteristica comune a molte specie animali secondo gli autori solo poche specie sono strettamente monogame come il chirogaleo dalla coda grossa e il ratto gigante malgascio numero 2 tradimento emotivo o sessuale un sondaggio condotto nel 2014 da psicologi della Chapman University su circa 64 mila americani ha rilevato che gli uomini eterosessuali sono più propensi delle donne etero a essere sconvolti dall'infedeltà sessuale 54 per cento contro 35 per cento al contrario gli uomini eterosessuali sono meno propensi delle donne etero a essere colpiti dall'infedeltà emotiva 46 per cento contro 65 per cento in altre parole gli uomini etero preferiscono che la loro partner fantastichi su un eventuale tradimento piuttosto che abbia rapporti intimi con un'altra persona le donne etero invece sono più propense a perdonare l'infedeltà fisica ma non l'infedeltà emotiva questi risultati suggeriscono che le differenze di genere e di orientamento sessuale giocano un ruolo importante nella percezione del tradimento numero 3 colpa dei social network la risposta a questa domanda è complessa e non può essere ridotta a un semplice sì o no tuttavia le ricerche suggeriscono che l'utilizzo dei social media può contribuire all'infedeltà in una serie di modi innanzitutto i social media possono facilitare l'incontro e la connessione con nuove persone questo può essere un rischio per le coppie che non hanno una comunicazione aperta e onesta in secondo luogo i social media possono essere utilizzati per mantenere relazioni segrete i partner infedeli possono utilizzare i social media per flirtare scambiare messaggi e persino incontrarsi fisicamente con altre persone in terzo luogo i social media possono portare a conflitti tra i partner questo può accadere se i partner sono in competizione per l'attenzione degli altri o se si sentono minacciati dalla presenza di altre persone nella vita del partner uno studio condotto dall'università del missouri ha rilevato che l'utilizzo attivo di siti come twitter e facebook può aumentare i conflitti tra i partner questi conflitti possono poi portare a infedeltà rottura e divorzio i risultati di questo studio suggeriscono che le coppie che utilizzano i social media dovrebbero essere consapevoli dei potenziali rischi per la loro relazione numero 4 traditori coerenti innanzitutto impedisce alla persona di affrontare l'accaduto e di provare i propri sentimenti sia positivi che negativi in secondo luogo può portare a un aumento dei sensi di colpa e della vergogna che possono a loro volta portare a problemi psicologici come depressione e ansia infine può aumentare il rischio di ricascare nell'infedeltà se hai tradito il tuo partner è importante affrontare l'accaduto in modo onesto e sincero sia con te stesso che con il tuo partner è importante riconoscere che l'infedeltà è un comportamento sbagliato e che ha avuto delle conseguenze negative sulla tua relazione è anche importante cercare di capire le ragioni che ti hanno portato a tradire in modo da poter evitare di commettere lo stesso errore in futuro se non riesci a affrontare l'accaduto da solo è importante chiedere aiuto a un professionista un terapista di coppia può aiutarti a capire le dinamiche della tua relazione e a trovare un modo per ricostruirla numero 5 il giorno e l'ora preferita dai traditori secondo un sondaggio condotto dal sito di incontri extraconiugali ashley madison il mercoledì sera è il momento preferito dai traditori per consumare i loro incontri clandestini il sondaggio cui hanno partecipato oltre 172 mila utenti del sito ha rilevato che il 21 per cento degli intervistati ha dichiarato di preferire il mercoledì sera tra le 5 e le 7 di sera per le proprie scappatelle i motivi di questa preferenza sono molteplici innanzitutto il mercoledì è un giorno lavorativo quindi le persone sono meno impegnate e hanno più tempo per organizzare un incontro clandestino inoltre il mercoledì è solitamente il giorno in cui le coppie si vedono meno poiché spesso uno dei due partner deve lavorare fino a tardi il sondaggio ha anche rilevato che i traditori preferiscono gli incontri brevi e discreti il 72 per cento degli intervistati ha dichiarato di trascorrere con il proprio amante meno di due ore e il 56 per cento ha dichiarato di incontrare il proprio amante in un luogo pubblico come un bar o un ristorante questi risultati confermano che l'infedeltà è un fenomeno ancora molto diffuso anche nella società moderna numero 6 l'infedeltà sul posto di lavoro secondo un sondaggio condotto dal sito di incontri extraconiugali ashley madison la maggior parte dei traditori il 68 per cento cercherebbe occasioni durante il lavoro la ricerca ha rilevato che i traditori trascorrono in media 1,17 ore al giorno a cercare occasioni di infedeltà sul posto di lavoro i motivi di questa tendenza sono molteplici innanzitutto il lavoro offre ai traditori l'opportunità di conoscere nuove persone e di trascorrere del tempo con loro inoltre il lavoro può essere un ambiente stressante che può portare a un aumento della vulnerabilità all'infedeltà una ricerca della società di recruiting over half executive search conferma questi risultati la ricerca ha rilevato che nel 61 per cento delle aziende italiane nascono rapporti di coppia più o meno ufficiali tra i dipendenti la città dove succede più spesso è milano seguita da roma bologna e torino l'italia è solo seconda il paese europeo dove l'amore scoppia più facilmente sul luogo di lavoro è la germania questi risultati confermano che l'infedeltà sul luogo di lavoro è un fenomeno diffuso che può avere gravi conseguenze sulle relazioni personali e professionali numero 7 le dimensioni un rischio per la fedeltà uno studio realizzato in kenia e pubblicato sulla rivista plus one ha rilevato che gli uomini con peni più grandi hanno maggiori probabilità di essere traditi dalle loro mogli la ricerca che ha coinvolto oltre mille coppie sposate ha rilevato che ogni centimetro in più di lunghezza del membro aumenta la probabilità di essere tradito di quasi il 150 per cento i motivi di questa tendenza sono molteplici innanzitutto il membro grande può causare dolore e disagio durante il sesso impedendo alle donne di provare piacere in secondo luogo il membro grande può essere fonte di ansia e insicurezza per le donne che possono temere di non essere in grado di soddisfare il proprio partner infine il membro grande può essere percepito come un segno di virilità e potere che può attirare l'attenzione di altre donne lo studio ha anche rilevato che le donne che hanno tradito i propri mariti con uomini con peni più grandi hanno riportato livelli più bassi di soddisfazione sessuale rispetto a quelle che hanno tradito con uomini con peni di dimensioni normali questi risultati suggeriscono che il membro grande non è sempre un vantaggio per gli uomini ma può anche essere un fattore di rischio per la fedeltà numero 8 la dopamina il neurotrasmettitore del piacere la dopamina è un neurotrasmettitore che svolge un ruolo importante nel nostro cervello regolando il nostro comportamento le nostre emozioni e la nostra motivazione la dopamina viene rilasciata nel nostro cervello in seguito ad attività piacevoli come mangiare fare sesso fare sport o vincere una partita esiste un gene che codifica per il recettore della dopamina d4 questo gene ha due varianti la variante lunga e la variante corta uno studio del 2010 ha rilevato che le persone con la variante lunga del genere cittore della dopamina d4 hanno maggiori probabilità di tradire i loro partner rispetto a quelle con la variante corta lo studio condotto su 181 volontari ha rilevato che il 50 per cento di quelli con la variante lunga aveva tradito il proprio partner rispetto ad appena il 22 per cento di coloro che avevano la variante corta questi risultati suggeriscono che la variante lunga del genere cittore della dopamina d4 può essere un fattore di rischio per l'infedeltà numero 9 la vasopressina la chimica dell'amore la vasopressina è un ormone che oltre a regolare il volume del sangue sembra svolgere anche un ruolo importante nella formazione dei legami di coppia uno studio condotto in svezia ha rilevato che gli uomini con bassi livelli di vasopressina hanno maggiori probabilità di rimanere single di avere relazioni extra coniugali di divorziare e di avere problemi matrimoniali i ricercatori non sono ancora certi del motivo per cui la vasopressina sia così importante per le relazioni di coppia tuttavia alcuni studi suggeriscono che potrebbe essere coinvolta nella regolazione dell'attrazione della fiducia e della soddisfazione sessuale è importante notare che questo è solo uno studio e che sono necessari ulteriori ricerche per confermare questi risultati numero 10 i geni e l'infedeltà uno studio condotto nel 2014 dall'università del queensland in australia ha rilevato che i geni possono giocare un ruolo importante nella nostra propensione alla monodamia lo studio condotto su oltre 5.000 coppie ha rilevato che il 63 per cento dei comportamenti dell'infedeltà negli uomini e il 40 per cento nelle donne potrebbero essere legati a fattori genetici i ricercatori hanno identificato nelle donne un singolo gene chiamato drd4 che potrebbe essere associato a un aumento del rischio di infedeltà le donne con una variante del gene drd4 che associata a una maggiore ricerca di novità e di stimoli potrebbero essere più propense a tradire il proprio partner tuttavia è importante notare che questi risultati sono solo correlazionali e non implicano necessariamente una relazione causale è possibile che i fattori genetici influenzino l'infedeltà indirettamente attraverso la modulazione di altri fattori come la personalità la propensione al rischio o la capacità di gestire lo stress inoltre è importante ricordare che l'infedeltà è un comportamento complesso che è influenzato da una combinazione di fattori tra cui i fattori genetici gli fattori ambientali e le scelte personali grazie per aver visto il mio video se ti è piaciuto metti un like iscriviti e condividi con gli amici